Che cosa rappresenta per te Giulio, per l'Italia e per l'Abruzzo questa maglia? Sicuramente è una maglia, penso, importante, che è famosa in tutto il mondo, rappresenta un po' il simbolo della salita, quindi vestirla così nell'ultima settimana e provare a giocarsela qui al Tour è qualcosa di molto molto bello. Come sta vivendo questo momento? Sicuramente bene, anche se è un po' una sofferenza tutti i giorni, perché con le battaglie che si devono fare ogni giorno siamo praticamente al limite, però manca poco per Parigi, voglio cercare di sfruttarla al massimo e godermi un po' tutta questa situazione. Felix Gall è l'avversario o Vingegaard? Con questo sistema di punti oggi Gall ha preso 40 punti con una salita, quindi ormai siamo tutti lì e è ovvio che ci proveranno tutti. E' un po' mi dispiace perché alla fine penso di aver vinto tantissimi Gran Premi da Montagna in questo Tour di prima categoria, quindi poi ti ritrovi a lottare così per qualche punto appunto per un sistema di punteggio che secondo me non è corretto.